carissimo silvestre jay e oggi siamo su cta 5 giustamente con il nostro carissimo franklin ragazzi si è che ci hanno firmato alla prima missione ora faremo la seconda che genio che si è che mi amico mio amico è davvero bello vedere te, davvero bello, guardami guardami, 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 abbiamo lavorato insieme per circa alcuni mesi ora, certo? per questo mi sono molto orgoglioso di annunciare a te, che sei l'evoluzione del mese, eh? comunque, ringrazio, non è facile chiedere un vennero sì, io, Lamar, tuo figlio Satchi con la Twitch, guardami, è stato un grande honore, ma devo andare avanti nella mia vita, sembrava che tutto ciò che faccio è che le persone mi dicano cosa fare e non faccio e nulla cambiare ti chiedi cosa, mio figlio, ti chiedi mi proprio quello che vuoi e io vevo molto attenzione a te, perché non può essere cosa? oggi è ripossessi veicoli che i ragazzi hanno compagliato in exorbitanti attenzioni, ma il giorno, insieme, non ho mai avuto un figlio nero, ma se se lo faccio, voglio che gli sia proprio come te no, no, mi piace ahahahahah ciao Lamar ciao, 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 ciao Franklin, qui, ha stato accettato l'employee del mese sei rimasto di merda man, siamo due diventati man, non lo scusate, man, per vero dopo tutto il lavoro che ho messo in man, f*** questo l'employee del mese non lo scusate, figlio, sto qui cercando di non lo scusate questo l'employee del mese quando c'è qualcosa per essere un uomo, non lo scusate non lo scusate, non lo scusate non lo scusate, non lo scusate, non lo scusate non lo scusate, non lo scusate, non lo scusate quando i nomi sono sul mese io voglio vedere il mio nome sul mese del mese e magari prossimo non lo scusate prossimo, Simeone che cosa di oggi? oggi non è nulla, solo una bicicletta non ha fatto un pagamento c'è un bambino a Vespucci il suo nome è Esteban Jimenez è in una gamba? curioso, non ho capito quando ha comprato la bicicletta abbiamo un lavoro per fare l'employee del mese? f*** lui, vabbè lui è un uomo ok vediamo un po' cosa si deve fare non lo scusate 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 ma sto cercando di capire cosa stanno dicendo non lo scusate non lo scusate non lo scusate ma utility che non lo scusate ma non lo scusate E' un uomo divertente, però potrebbe essere una grazia quando facciamo uno di più e muovere tutto questo. C'è chi ti parli? E' un po' psicologico. E' come funziona, vabbè? C'è un'azionamento di lavoro per la cultura, creiamo una relazione un'unica semplice. E poi ci chiedi di fare un altro che di più e di più. Più ti fai, i foi diventano capire, poi cominciai con altri foi. La macchina deve essere in uno dei lockups dietro. Deve essere la storia di sua vita, ui! ok che si deve fare su tutto scavo il cuore no è la prima persona ok 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 la mia famiglia la mia famiglia grazie allora cosa dobbiamo fare ok dai conto dallo prima di qua eh un giubbotto antipaglietti va bene quest'altro però dove c'è qua dentro il divano ci manca l'ultimo ma secondo me questo qui è quello buono infatti non 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 appello belli senti madafucan naga oh christos me sta escapando ok allora dalla velocità che sta andando lo aggiungiamo subito come vedete tante crazzo di macchina beh io vado alla velocità massimo lo aggiungiamo subito lo vendiamo subito ok 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 allora allora st scordiamo cioè non so nemmeno quanto cazzo sto a registrare raga e che cazzo ecco ho rovinato una macchina porca puttana parlo alle scurrilli così a cazzo ok però ok no dai è impossibile che è arrivato prima di me è impossibile ecco un psichopat, tu finalmente hai perduto n***a, è l'acqua di apache in me, tu non è fortunato che io non faccio un tomahawk e scopo i tui non puoi riportare l'acqua di un uomo morto, un uomo morto n***a, e non andiamo a fare l'acqua n***a, i'ma guardare questo n***a per me direi a Simeone che non puoi riuscire tu dimenticare, tu dimenticare, tu dimenticare ok ok si è complicata, espandi ok, dovevo fare 6 headshot però però, non fa niente, 9 minuti ragazzi ragazzi, avete una cosa? visto che l'hama ha detto che tengo un taglio di m***a, adesso ci devo fare i capelli fega sciala ok 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 il nostro bel parrucchiere ok haircuts barbell tutta benvenuta ok vediamo un poco ok che tagli stanno? vediamo un poco conciature conciature alla pogba no 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 ora ora io lo farei ah dietro no 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 ok non ci frega un cazzo non ho capito cosa cazzo devo fare? raggiungi la casa di chi? vediamo un po' allora questo è un chilometro dal concessionario un gatto un gatto bisogna ottenere l'accesso da dentro l'uomo non è mai facile con te non parlassi con me dici dici in pieno oh dio ma poi questo inferno madonna che poi non è che l'avevo comprato quella volta in gta si l'avevo comprato a natale però io da natale gioco sotto alla gta online cercare un accesso alla casa allora da qua no da qua può darsi eh no no che cosa ma come ho fatto qua qui 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 è qui è qui ok ok è qui è qui è qui che 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 non è vero che hai una macchina un po' di più un po' di più ha detto che ho un po' di più ha detto che ho un po' di più ha chiamato un po' che fanno ho cercato di attaccare un po' di più che fanno che fanno che fanno oh ok ah mi ricordo mi ricordo mi ricordo mi ricordo ecco il ragazzino il gisle boh già lo è rotto ecco 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 come se è giusto? guarda, è solo tra lui e il tuo figlio non preoccupi io e il Mr. Yatarian lavoriamo questo è il posto? qui è il posto? oh dio 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 cosa stai facendo? il Mr. Samuel non è proprio come si sembra sempre Trump è più grande per un lavoro ok ok oh dio ok 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 oh dio oh dio oh dio ok 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 oh, ora siamo lui quindi ok vabbè ragazzi questo video è finito mettete tanti like se volete i prossimi episodio qua da Sylvester J è tutto ok 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 ok